Siamo per vedere l'allallallallajutlo! Noi amici siamo a Londra, cosa dite di Londra? Tu? Tu? Albert, cosa dici di Londra? Sì, è veramente bella Londra, un tempo meraviglioso, ho preso il sole, gli schiaffi, lui è il bastardone che vive con me, il sushi come è? Noi siamo sempre figli, questo è il parrucchiere che Anna ci vuole andare e praticamente costa un botto, come vedete, costa un botto, pazza che puzza di merda, c'è proprio un puzza di il sottotitolo, però raccontato un po' diSave forms. All'in לבinicoА, qual è? No stop per 2, riprkom alla principi? Questo è tutto un calvo, è tutto un calvo.